Oggi vedremo come riprodurre questa immagine che io ho fatto seguendo un tutorial di Abduzeido Underwater Shane fatto con Pixelmator Tutorial questo Ok, torniamo al Gimp E creiamo una nuova immagine File, nuovo Nuova immagine, 640x480 Riempi con colore di sfondo, ovvero nero Diamo ok La mettiamo al centro per far vedere quello che facciamo Ok Inseriamo un nuovo livello, trasparente Ok Questo livello lo riempiamo di un verde intenso 12, 24, 1, F Ok Selezioniamo il secchiello Accertiamoci che sia selezionata il riempi intera selezione E riempiamo A questo livello applichiamo Aggiungiamo una maschera di livello Bianca Con la maschera di livello selezionata Applichiamo il filtro Render Nuvole Disturbo tinta unita Selezioniamo la casella casualizza in modo di avere un effetto sempre differente I dettagli I dettagli A 15 La dimensione della X 10 La dimensione della Y Idem 10 Diamo ok Avremo un effetto tipo nube Sempre con la maschera di livello selezionata Applichiamo un movimento Sfocatura Movimento Tipo di sfocatura Zoom Per quanto riguarda le X Possiamo lasciare tranquillamente 320 Ovvero lo avremo al centro Mentre per quanto riguarda le Y Lo vogliamo che l'effetto parti dal basso Per cui per farlo partire dal basso Dovremmo mettere l'intera altezza dell'immagine Che in questo caso è 480 Se era in alto dobbiamo mettere 0 480 I parametri di sfocatura abbondiamo Mettiamo un 100 E applichiamo Ci vuole un po' di tempo per applicare Ecco Adesso a questo aggiungiamo Un nuovo livello Trasparente Selezioniamo un nuovo colore Un bordeaux 94 14 33 Ok Prendiamo un pennello Perché lo macchieremo al centro Io uso i pennelli personalizzati Per aumentare la dimensione Premendo shift e rotellino del mouse Ecco A questo applichiamo un filtro Sfocatura gaussiana Abbondante 200 Diamo ok Aggiungiamo Maschera di livello Bianca E ripetiamo I filtri di prima Filtro Usati recentemente Disturbo tinta unita Ok Filtri Usati recentemente Movimento Ok Inseriamo un nuovo livello Colore di sfondo Lo settiamo In modalità scherma Adesso prendiamo il pennello bianco E creiamo sempre Un semicerchio Sempre al centro Ecco Ecco Applichiamo Una sfocatura gaussiana Usati recentemente Gaussiana Invece di 200 Settiamolo alla metà 100 Ok Questo livello Lo settiamo All'80% Ok Adesso aggiungiamo un nuovo livello Sempre colore di sfondo Lo settiamo sempre su scherma E su questo livello Inseriremo delle Delle bolle Che io ho Creato precedentemente Che condividerò In seguito con voi Eccole qua Diminuiamo La dimensione Del pennello Sfruttiamo Sfruttiamo la dinamica Del pennello In dimensione Casualità Sempre con il pennello Bianco Cominciamo A farne Un po' Di qua Un po' Di là Un po' Un po' Di qua Di qua Un po' Di qua ok ora inseriamo un nuovo livello sempre quello di sfondo nero settato su scherma adesso le bolle su questo livello le faremo più grandi una questo livello lo settiamo al 70% applichiamo una sfocatura bassa a 5 ok in modo di dare profondità per dare diversità di colore scusate inseriamo un nuovo livello però trasparente ok andremo cambiamo pennello usiamo il nostro personalizzato andremo a colorare di blu le parti nere che vediamo qui ok però settiamo il pennello con un'oposità molto bassa 15 e utilizziamo questo colore blu intenso 0C 125C ok 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 eppure a questo livello aggiungiamo una maschera di livello bianca filtri usati recentemente disturbo tintonita filtri usati recentemente movimento ora aggiungiamo un nuovo livello colore di sfondo lo mettiamo in modalità scherma e inseriamo al centro uno splash d'acqua io per questo ho utilizzato un'immagine trovata sul firk questa qua water splash prendiamo tutte le dimensioni eccola questa qua copia immagine modifica incolla e incolliamo un nuovo livello la prendiamo sposta a livello attivo la spostiamo più al centro ecco così livello dimensioni immagine nuovo livello da visibile lo settiamo al 50% adesso duplichiamo la prima scusate prima di duplicare applichiamo un filo di sfocatura rimasto di sfocatura a un 20% ok adesso duplichiamo la prima la settiamo su schermo la seconda su sovrapposto e con questo abbiamo finito un saluto ciao 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 ciao